Buonasera a tutti, buonasera in particolare ai cittadini di Minturno, torna l'intervista in regia Biagio Capuano, conduzione ovviamente dovete subirvi di Giuseppe Capuano ma giustamente sarò io ad accompagnarvi in questo incontro a tutto tondo, potremmo dire così, con il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, il suo programma Una città che vive di luce propria, è due anni che Gerardo Stefanelli ormai occupa la carica da sindaco e quindi con lui vogliamo chiacchierare, perché no, fare anche progetti per il futuro. Prima di tutto buonasera, benvenuto Gerardo. Buonasera, buonasera Giuseppe, buonasera Emanuela, buonasera telespettatori, grazie per l'invito, è sempre un piacere venire a trovarvi e tra l'altro notare che come Minturno anche voi cambiate e vi evolvete, insomma, il che è sempre molto positivo e piacevole. Facciamo del nostro meglio. Un saluto va fatto a Emanuela Conte, esordio per lei più ma nella nostra postazione social. Buonasera, buonasera a tutti. Una cosa particolare di questa trasmissione è che sarà aperta anche al pubblico, abbiamo voluto la diretta proprio per poter porre anche domande che arriveranno da casa e perché no, discutere ampliando il parco di quelle che potrebbero essere le eventuali domande. Sappiamo che Gerardo è riduce da un programma televisivo di ieri dove ha già parlato di rifiuti, quindi il nostro programma toccherà questo argomento ma poi salteremo oltre e che poi avrà quasi in tour come i grandi cantanti, come le grandi star perché ci sarà un grande incontro il 21, non sappiamo ancora la location ma è come tradizione anche lo scorso anno il sindaco incontra i cittadini per fare un po' il resoconto di quello che è stato il cammino i 365 giorni appena rascorsi. Giusto Gerardo? Beh, mi sembra giusto. Il 20 giugno saranno due anni dalla mia elezione a sindaco di Minturno. Come ho fatto l'anno scorso mi sembra giusto tracciare il risultato di 12 mesi, in questo caso di 24 mesi di amministrazione per fare un resoconto, per raccontarci le cose che abbiamo fatto, quelle che abbiamo messo in cantiere e quello che abbiamo in animo di realizzare. Credo che sia doveroso confrontarsi con i cittadini ma anche non dimenticare... Soprattutto dati alla mano perché tu fai questo incontro con i dati, con i numeri veri e propri. Sì, con i numeri che a volte sai, i numeri non raccontano tutto, però è sempre bello e giusto tirare fuori i numeri, soprattutto quando uno è amministratore e non politico. Cioè quando uno amministra si confronta con bilanci, con atti, con problematiche concrete e quindi è anche giusto dare un segno di concretezza. La nostra regia già ci propone delle foto del territorio. Ti avviso, io ho voluto utilizzare foto, soprattutto foto tue, perché tu sei una persona che vive da vicino il territorio e che spesso e volentieri dimostra il proprio affetto per quello che è mi turno. Quindi ho voluto utilizzare delle tue foto, ne daremo il copyright poi dopo. Allora, iniziamo a parlare di rifiuti. È vero che il tema è stato sviscerato già, ma il bilancio dei primi dieci giorni di raccolta totale del porta a porta, 21 giugno-31 maggio, è stato di un 56,2%. Come valuti questo dato e soprattutto come è possibile poi ribaltare queste due cifre, puntare a quel famoso 65%. Allora, la cosa bella è che ieri in trasmissione, mentre registravo, ho scommesso, ho sfidato il giornalista che avremmo raggiunto il 50% di differenziata prima di Natale, quindi nei primi sei mesi di raccolta e non conoscevo i numeri. Sono partito da Frosinone, sono tornato in comune, avevo una riunione con il responsabile dell'ufficio, l'assessore da conto e la ditta e la ditta ci ha portato i dati dei primi dieci giorni di raccolta porta a porta su tutto il territorio e i dati parlavano di un 56,32% di raccolta differenziata, il che è un risultato straordinario, il cui merito va diviso fra innanzitutto i cittadini che hanno recepito subito la nuova modalità di conferimento, le regole, le differenziazioni fra i diversi tipi di rifiuto all'interno delle proprie abitazioni, la società e gli operatori che hanno cambiato dopo tanti anni il metro di lavoro e lasciatemelo dire un complimento anche all'assessore Piernicandro D'Acunto che si è dimostrato disponibile, paziente e sempre presente sulle singole problematiche che venivano segnalate dai cittadini. Sono numeri importanti, ovviamente sono dieci giorni, non sono numeri che testimoniano, accreditano il successo della raccolta, però sono numeri che ci incoraggiano soprattutto alla luce del fatto che eravamo rimasti l'unico comune del sud pontino ma non solo, anche del sud della provincia di Frosinone e dell'Alto Casertano che non faceva il porta a porta. In passato spesso si diceva no ma i cittadini di Minturno non sono ancora pronti, non saranno pronti, invece la risposta è stata straordinaria. Ora bisogna continuare soprattutto perché ci aspetta un periodo incandescente che è quello di luglio ed agosto dove non solo dovremo fronteggiare una presenza enorme di turisti rispetto alla popolazione abitante, quindi un lavoro enorme in più, ma anche il fatto ad esempio che abbiamo delle attività tipo gli stabilimenti balneari che producono un grande quantitativo di rifiuto e in cui diventa difficile fare una raccolta differenziale di qualità perché ci sono tante persone di passaggio, tanti giornalieri, per questo stiamo cercando di collaborare e chiediamo la collaborazione non solo degli stabilimenti ma anche dei turisti di avere un po' di attenzione perché il rifiuto prodotto dagli stabilimenti per la quantità può incidere in maniera significativa sulla percentuale definitiva del comune e siccome noi vogliamo arrivare al fatidico 65% nel più breve tempo possibile staremo attenti e chiederemo la collaborazione dei titolari degli stabilimenti. Come diventare più virtuosi in questo campo dei rifiuti anche perché bisogna andare avanti, l'innovazione è stata apportata ma adesso bisogna magari implementare i servizi, ottimizzare, ci sono stati dei problemi di traffico, ci sono stati dei problemi anche nella raccolta, come si possono risolvere queste cose? Beh i problemi innanzitutto installeremo 15 contenitori stradali per la raccolta degli oli esausti e quindi andremo a recuperare un altro tipo di rifiuto che vorrei dire oggi va a finire spesso nella tubazione e quindi nelle fogne rovinando i depuratori, poi installeremo i contenitori per la raccolta delle pile esauste, cambieremo i contenitori per la raccolta degli indumenti. Il problema della raccolta durante il giorno è del traffico stradale o dei disagi, purtroppo fare la raccolta notturna significa impiegare gli operai in orari notturni con dei salari e dei contratti completamente diversi, questo farebbe schizzare i costi perché la voce del costo del lavoro è la prima voce di spesa del contratto dei rifiuti, ovviamente dobbiamo stare attenti a non far lievitare la bolletta e quindi cercheremo in qualche modo di organizzarci. Poi i disagi devono esserci, se non ci fossero i disagi sarebbe un mondo perfetto, la perfezione non esiste e soprattutto il nostro compito è quello di migliorarci sempre di più, come andando a pizzicare gli irriducibili, quelli che ancora pensano di uscire tutte le sere della propria vita uscire per trovare una cunetta o una curva o un angolo buio in cui lasciare la propria busta, ma io credo che si stancheranno perché... Gli olimpionici del sacchetto? Sì ma si stancheranno, al di là del fatto che speriamo nelle prossime settimane di avere in servizio i famosi 20 vigili stagionali che ci aiuteranno nel controllo del territorio, ma voglio dire, ma una persona come fa a pensare da qui all'eternità di uscire tutte le sere di nascosto per gettare il proprio rifiuto? Arriverà anche l'inverno con la pioggia, il freddo, magari anche la neve come quest'anno? Io credo che vi conviene mettervi in regola, insomma. Poi è così comodo lasciare il mastello fuori casa senza fare il giro con il sacchetto nero come facevamo prima? Io credo tra l'altro che questo sistema di raccolta abbia avuto un effetto a cui nessuno pensava, quello di unire la comunità, a prescindere dalla classe sociale, dalla generazione, dal luogo in cui vivi sul territorio, tutti hanno una cosa in comune. Prima che andassimo in onda ti è arrivato il messaggio di Junker, della famosa applicazione, lo stesso messaggio arriva nello stesso momento a circa 10.000 persone. Credo che sia una cosa bellissima e che ci faccia sentire anche parte di una comunità. Io veramente ricevo i complimenti dalle persone al bar, negli alimentari, nelle frutterie, per strada e rispondo sempre che il merito non è nostro, il merito è loro perché hanno avuto la capacità di adeguarsi in un tempo brevissimo. Se pensiamo che oggi è l'8 giugno e sono passati esattamente 17 giorni da quando è incominciata la differenziata su tutto il territorio e un mese da quando è incominciata su una parte del territorio. E noi già stiamo in una situazione secondo me ottimale. Io sfido chiunque, al di là della raccolta porta a porta, sfido chiunque a dire che mi inturno, oggi non si è più pulita rispetto a due anni fa. Io vedo una città che è cambiata. Ho riscoperto degli angoli in cui avevamo 5, 6, 7 bidoni che quindi non vedevi mai il marciapiede o il panorama. Oggi riscopro angoli della città. Penso alla salita di Scauri, meta dei turisti del rifiuto che venivano dai comuni limitrofi. Penso agli angoli della via per Castelforte, a Dogana dove c'era praticamente, era diventata l'isola ecologica dei comuni che stanno un po' più a sud di noi. Penso a quelle tante persone che per una vita hanno avuto i cassonetti fuori dai propri giardini e hanno praticamente avuto impedito la possibilità di vivere il giardino d'estate perché ovviamente gli odori erano nauseabondi. Se penso a tutte queste cose sono molto ottimista, contento e orgoglioso. Poi ci sono ancora qualche sacchetto buttato per strada, c'è ancora qualcuno che vuole fare il furbo, però credo insomma dobbiamo anche essere realistici, vuole del tempo. Poi la mattina io esco molto presto, spesso, vedere tutti i mastelli blu allineati lungo alla strada o quelli di color lilla e dà una sensazione estetica anche... Di cultura. No, bella, bella. Altri comuni non usano i mastelli, altri comuni usano i mastelli solo per il conferimento dell'umido. Ai cittadini gli danno i sacchi trasparenti, per cui tu cammini su Via Vitruvio, tanto per dirla, e trovi i sacchi trasparenti. Coloriamoli più alla città in questo momento. Guarda, è una cosa bellissima, è tutto a merito dei cittadini però. Chiudo solo la parentesi dei rifiuti, si sta lavorando dal punto di vista della repressione con multe, c'è in programma qualcosa? Allora, abbiamo fatto delle multe, adesso cominciamo ad aprire i sacchetti, proprio oggi l'assessore da punto con il comandante della polizia locale e agli uomini della polizia locale che voglio ringraziare perché in otto stanno facendo il lavoro che avevamo previsto per 26 e quindi si stanno veramente impegnando tantissimo. Hanno incominciato ad aprire le buste per provare ad individuare qualcuno. Qualche molte partita, qualche immagine delle camera l'abbiamo salvata. Credo che dovremmo intensificare soprattutto per l'afflusso dell'estivo che sarà enorme. Allora, mi hai anticipato sui vigili, è un tema che tratteremo a breve. Vorrei parlare con te del turismo, innanzitutto i lavori imminenti. In un tuo post su Facebook hai parlato proprio dello Stato, hai chiesto pubblicamente scusa e ciò ti va dato atto, ma c'è già un programma di lavoro sugli interventi da fare sul territorio? Ma guarda, io questa cosa che ho chiesto scusa ha fatto tanto scalpore perché nessuno chiede scusa. Eppure il Papa, che penso sia il personaggio più influente di questo periodo nel mondo, ci dice sempre scusa, grazie, prego, le parole che salvano i rapporti, che salvano la famiglia, i rapporti professionali, i rapporti all'interno della comunità. Ho chiesto scusa perché? Perché per me una città turistica come deve essere in intorno, il primo aprile deve essere perfetta, pronta. Purtroppo noi abbiamo avuto il ragioniere che è andato in pensione dopo 40 anni, il 31 marzo. Lo abbiamo sostituito, ovviamente chi è subentrato ha avuto bisogno del tempo per entrare nelle dinamiche operative del settore bilancio. Abbiamo avuto tutta una serie di problemi, per cui siamo partiti tardi, ad esempio, nell'ordinare i cestini stradali per il conferimento differenziato. Sul Lugomare questo crea dei problemi. Le mareggiate che quest'anno si sono protratte fino a metà maggio hanno rallentato la sistemazione dei cosiddetti canali di scolo e delle spiagge libere. È ovvio che il 2 giugno ci siamo trovati con una città che non era perfetta. Mi sono sentito in dovere di chiedere scusa per non essere stati in grado di trovare una città perfetta. Vorrei ricordare però che il passato era qualcosa di completamente diverso. Io ho chiesto scusa rispetto a un ideale, non rispetto a quello che succedeva prima, perché rispetto a quello che succedeva prima sono orgoglioso di come sta la città. In queste serate qualche nottambulo vede gli operai che installano delle piante, delle essenze erbone, che stanno ridando anche un po' di vita a delle aiuole che avevano dimenticato l'esistenza del verde. Stiamo cambiando alcuni sensi unici, stiamo cambiando l'accesso ad alcune zone pedonali come quella della scogliera, cercando di fare delle scelte anche che tengono conto di un po' di decoro urbano, non solo di efficienza e di praticità. Credo che stiamo intervenendo sulle discese in corrispondenza degli attraversamenti pedonali che prima non esistevano. Io portavo i miei figli con il passeggino e ogni volta era un problema scendere e salire dal marcio a piede. Mi sembra che ci sia un'attenzione ai dettagli e alla città che per tanto tempo, io non dico che non c'è mai stata, ma per tanto tempo non c'è più stata. Io dico sempre che dal 2010 al 2016 Minturno ha avuto un caos, un'assenza totale di un governo presente e quindi questo ci ha un po' disabituato a tutta una serie di cose. Io credo che stiamo lavorando bene, però dobbiamo continuare a fare sempre di più e sempre meglio. L'anno prossimo ci faremo trovare pronti il primo aprile. Un piccolo appunto però va fatto sulla manutenzione del territorio. Ci sono strade che sono invase dal verde, tipo quella che scende da Minturno nella parte elettrostante, quella che costeggia la ferrovia. È vero che in alcuni casi parliamo di zone dove ci sono più enti che devono intervenire. Allora, la rabbia è proprio questa. È che noi abbiamo assegnato adesso lo sfalcio dell'erba, partirà nei primi giorni della prossima settimana. La rabbia è che sarebbe dovuto partire un mese fa e per questo io ho chiesto scusa, perché purtroppo ci sono stati tutta una serie di situazioni contingenti che hanno ritardato quelle operazioni di sistemazione del territorio che ci sarebbe piaciuto fare nei mesi di marzo e di aprile. Poi però giro, vedo altre città e non tutte sono meglio di noi, anzi. Che turismo ci attendiamo e che controlli si stanno preparando? Poi ti farò un'altra domanda diversa. Però il turismo di quando Gerardo Stefanelli ha iniziato a fare il sindaco è il turismo che si attende dopo due anni di amministrazione? Vabbè, io non so il turismo che ci attendiamo o che non ci attendiamo. Io vorrei dire che in questi due anni abbiamo realizzato degli spot video promozionali del territorio, cosa mai fatta prima? Siamo andati nell'ultimo anno su ben tre trasmissioni nazionali che divulgano le bellezze del territorio e quella è promozione. Abbiamo realizzato delle mappe turistiche, prima non potevi avere una mappa della città. Abbiamo attivato le navette turistiche sul lungomare, gratuite, sperimentali. L'anno scorso hanno avuto un successo enorme, quest'anno saranno raddoppiate, partiranno prima e collegheranno anche le frazioni. Abbiamo realizzato un cartellone di eventi. Per carità, l'anno scorso ne abbiamo fatti cento tra giugno e settembre, per tutti i tipi. Per i bambini piccolissimi, il teatro per i ragazzi, i burattini, le serate di musica, il teatro. Insomma, credo che abbiamo ridato un po' di vita a Minturno. Io ho notato una cosa, ho notato che ci sono sempre più persone che stanno riconvertendo le proprie abitazioni in case vacanze, in B&B, in affitti settimanali. Cioè, hanno preso coscienza che esiste un tipo di turismo diverso, un mercato diverso e si stanno adeguando. Ovviamente non sono ancora un numero considerevole, ma ce ne sono tantissime e alcune anche di qualità, che fanno un lavoro importante, portano qui tanti turisti stranieri. Non lo dico io, nel centro storico di Minturno ci sono americani, danesi, norvegesi, inglesi. Insomma, piano piano credo che ci stiamo ridando smalto al nostro turismo. Poi, sai, queste operazioni non sono mai delle operazioni a breve termine, un anno, due anni di solito, è un processo lungo. E non puoi neanche dire da oggi a domani, ma siamo in cammino, anche dal punto di vista delle presenze turistiche. Questo che dici, quindi, rientra nel famoso progetto del villaggio diffuso della città. Ma a che percentuale siamo arrivati su questo progetto? No, il villaggio diffuso ci stiamo lavorando. Purtroppo, ancora abbiamo difficoltà nel far capire alle diverse attività che, integrandosi, si rafforzano. Perché chi viene qui e va in una casa, prende una casa per vivere la vacanza, poi ha il problema di muoversi. Magari è venuto in treno e vuole un noleggio con un conducente, magari ha bisogno di una babysitter perché il pomeriggio vuole rilassarsi, vuole affidare i bambini a qualcuno. Magari ha bisogno di un parrucchiere perché la sera fa una cena di gala e quindi, se non conosce nessuno, ancora ci si muove in maniera spontanea, per cui magari chiede a chi gli ha affittato l'appartamento. Dobbiamo arrivare a creare un sistema in cui le attività lavorano insieme. Su questo abbiamo ancora delle difficoltà, ma io sono convinto, come per la bandiera blu, che ci arriveremo. Perché la bandiera blu, a noi manca la raccolta differenziata, poi abbiamo tutti i criteri per la bandiera blu. Io non so se ci candideremo per il 2019 o per il 2020. Sono convinto che otterremo il vessillo prima della fine della nostra consigliatura. E sarà in quel momento un giorno di grande gioia, non solo per la comunità, ma anche per me personalmente per tutto quello che questa famosa bandiera ha comportato dal 2012 ad oggi. Insomma, sfottò Ilari Tavari. E in virtù di ciò, questa è una mia domanda, conseguita la bandiera blu ti fermerai solo la blu o punterai ad altre bandiere? Ma no, la bandiera poi è un'icona che nel mondo attuale, nel mondo dell'immagine, per chi si collega da un sito, da un'altra nazione o da un paese lontano, vedere un paese con la bandiera blu significa sapere che lì c'è un minimo di organizzazione turistica, un minimo di servizi e un minimo di qualità. Poi vedremo la bandiera verde, quella per le spiagge per i bambini, ma non è tanto il colore della bandiera, è la capacità di avere un'organizzazione. Tassa di soggiorno, a testa allo scalpore, quando è stata inserita da questa amministrazione, allora vorrei un mini bilancio di quello che è stato fin qui e di quello che ci attendiamo proprio dalla stagione imminente. Ma io credo che il bilancio lo potremmo fare a fine estate, perché poi noi non è che abbiamo un turismo importante come numeri tutto l'anno, quindi il bilancio sulla tassa di soggiorno lo faremo a fine anno. Speriamo di incassarne un bel po', perché poi quella è una tassa di scopo, quindi tra l'altro è vincolata, può essere utilizzata solo per il turismo. Ovviamente se incasseremo dei fondi consistenti, lì ci consentiranno di organizzare magari anche all'ultimo minuto degli eventi, ad esempio il concerto di mezz'estate che manca da un po' a minturno. Passeremo fra poco alle domande dei social, quindi Manuela preparati. Io sono... Sì, sì. Ma non ho voluto vedere le domande prima. Questo bisogna darne atto. Non ho voluto vedere le domande. C'è uno sindaco, avanti tutta. Allora, ti richiamo un ultimo pezzo del programma, percorso della memoria e centro storico. Anche questi sono due punti fondamentali. Qualcosa è stato fatto già nel percorso della memoria, ma il centro storico. Allora, il percorso della memoria non vuole essere un'operazione nostalgica. Il percorso della memoria è un'operazione valoriale, perché ovviamente partiamo dalla storia di Minturno, dalla linea Gustava, dalle sofferenze. Questo è un paese, è un comune che è stato decorato di medaglia d'oro al merito civile. Il 2 giugno è partecipato alla festa della Repubblica Latina e mi sono emozionato quando ha aperto la sfilata il gonfalone del comune di Latina e subito dopo quello del comune di Minturno, medaglia d'oro al merito civile. Allora, noi abbiamo dimenticato che cosa significa il merito civile e credo che in questa fase storica, soprattutto in Italia, vada invece riscoperto e vada incoraggiato il termine e quello che c'è dietro al merito civile. Per cui far conoscere ai ragazzi quello che è successo non si tratta soltanto di raccontargli una pagina di storia, si tratta anche di trasmettergli dei valori. La pace, così conquistata con tanta sofferenza e sofferenze dei nostri concittadini, non è una cosa scontata. La generazione che viene dopo di me, anche io l'ho sempre vissuta in un mondo di pace, con l'Italia in pace, con l'Europa in pace, ma io avevo mia nonna che mi raccontava, come te, gli episodi della guerra, i piccoli episodi della storia quotidiana di chi ha vissuto la guerra, le sofferenze, le privazioni, in alcuni casi i lutti, e ho elaborato inconsciamente il valore della pace. Oggi i ragazzi tutti questi racconti non li sentono e pensano che sia scontata, e pensano che l'Europa magari sia una matrigna che sottrae. L'Europa è quella che ci ha consentito, ci consente da ben più di 70 anni, di vivere, di conoscere solo la pace, mentre intorno a noi, nel mondo, la guerra è all'ordine del giorno. Io credo che questi siano valori che vadano trasmessi ai ragazzi e ai più giovani. Ovviamente non solo la memoria della linea Gustav, ma anche la memoria delle nostre tradizioni. La Sagra delle Regne, io credo che l'anno scorso, non l'ho detto io, l'ho sentito dire da chi la Sagra delle Regne la organizza, che è stata un'edizione bellissima, come non si faceva da tempo. Credo che su questo abbia influito anche la disponibilità di fondi che grazie all'assessore Risa Venturo siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Lazio. i miei assessori, i miei consiglieri e consigliere si sono vestiti da pacchiane, hanno indossato gli abiti storici. Ma ti sei calata col viglio? Col viglio adesso hai fatto pratica. Il famoso viglio. Non me lo sono tirato in testa, però neanche la prima volta. Devo dire la verità, a differenza di qualche mio predecessore, ho salvato la testa, insomma. E anche quest'anno credo che faremo una grandissima edizione della Sagra delle Regne. E sono contento. Non so se mi vestirò quest'anno. Vediamo, hanno cercato di convincermi. Ovviamente la stazza rende difficile l'operazione. E poi io ci tengo... Meglio da paggetto che da sbandilatore. Certo. E poi io ci tengo ad indossare, perché io devo indossare la fascia tricolore, la indosso sempre su un vestito istituzionale. perché anche nei piccoli gesti bisogna avere rispetto delle istituzioni e dei simboli delle istituzioni. Fra poco parleremo e approfondiremo il reparto cultura, perché Minturno ha lavorato tantissimo su tutto ciò. Manuela, le domande social. Allora, ci chiedono per quanto riguarda la digitalizzazione della macchina amministrativa. Come sta andando? Allora, stiamo lavorando con la fondazione Gazzetta Amministrativa abbiamo quasi ultimato la costruzione del nuovo sito internet e stiamo lavorando sui meccanismi, sulle fasi dei procedimenti, perché il procedimento ha delle fasi e quindi devi costruire il percorso digitale tenendo conto dei vari svincoli, per usare una metafora, che ogni scelta all'interno del procedimento ti fa fare. Quindi non sarà un percorso facile, ma anche su quello stiamo lavorando. Anche nell'alfabetizzazione informatica. Ma guarda, io... Innanzitutto abbiamo potenziato tantissimo i software a disposizione dei funzionari, anche per consentire alle banche dati. Ad esempio abbiamo adesso completato l'integrazione fra l'anagrafo e la banca dati della Tari per la tassa dei rifiuti, che prima non esisteva. Ci stiamo lavorando molto, non è semplice. Abbiamo delle risorse umane un po' in là con gli anni, quindi diventa anche difficile abituarsi ad un nuovo tipo di lavoro. Credo, se ce ne sarà la possibilità, a inizio 2019 prenderemo una risorsa che si occuperà solo del centro elaborazione dati del comune di Vinturno e di far funzionare al meglio tutte le apparecchiature hardware e software. Ancora domande? Sì, un'altra domanda. Come mai non si è riuscito a fare un polo turistico con i comuni di Gaeta e Formia fino ad ora? Ma non è vero. Noi abbiamo un distretto turistico del Golfo e delle Isole Pontine con cui abbiamo partecipato a dei bandi regionali, con cui abbiamo fatto dei programmi Sciusci e Caramelle a Natale, l'estate scorsa. Ovviamente poi Formia ha avuto una crisi politica quindi manca il sindaco di Formia. Stiamo partecipando a un bando della Regione Lazio per l'applicazione delle nuove tecnologie al fine di valorizzare i siti culturali. Partecipiamo in rete con Gaeta e spero con Formia. Siamo andati noi, sono stato io personalmente ad andare a chiamare il sindaco Mitrano e il commissario prefettizio di Formia perché mi sono reso conto che facendolo insieme e costruendo una rete di beni culturali con delle tecnologie innovative avremmo potuto aggredire una fetta di mercato che oggi c'è precluso tipo ad esempio anche il mercato turistico delle scuole che ci consentirebbe di destagionalizzare l'offerta turistica e lavorare più mesi l'anno. Proseguo io con la cultura? Posso? Prego. Le rubo una frase. Le domande molto... Ma noi abbiamo un pubblico attento. Sì, sì, no, molto pertinenti. Allora, una ventata di cultura così l'ha definito Solcare in turno. Un bilancio? Solcare è stata una scommessa. Solcare è finanziato un progetto che è arrivato primo nella regione Lazio, in tutta la regione. ha avuto un bando della regione Lazio ha avuto un finanziamento di 60.000 euro della regione e 60.000 euro ce li ha messi il comune. E per le nostre finanze e per il nostro bilancio 60.000 euro di spesa corrente, chi è amministratore capisce bene cosa sto dicendo, sono tantissime. L'assessore Minmanuzzo era un po' titubante e infatti mi dice sempre che io ho avuto il coraggio. Ho avuto il coraggio di dire no, questo lo facciamo e lo finanziamo a costo di non finanziare niente d'estate e questo lo finanziamo. Perché? Primo perché Solcare si basa sulla riscoperta dei luoghi culturali, dei beni culturali del nostro territorio. La torre dei Saraceni, la bellissima lettura di Peppe Servillo, il teatro riaperto agli spettacoli. Sabato scorso Peppe Barra vedere il teatro pieno, i gradoni del teatro pieno con quello scenario fantastico e con la luna piena è stata un'emozione enorme. Il teatro classico, la tragedia con Sette contro Tebbe, Domenica, Michele Placido, ma anche il Ponte Borbonico. Chi mai aveva fatto uno spettacolo al Ponte Borbonico? Abbiamo avuto due spettacoli emotivamente coinvolgenti, i Briganti con un attore ipovedente, cieco praticamente, di cui nessuno si era reso conto durante la recitazione. e i 55 giorni del caso Moro, un'altra rilettura veramente coinvolgente. Quindi scoprire i nostri beni, guardarli con occhi diversi e abituare la nostra comunità anche alla condivisione di emozioni positive. Perché dico questo? Perché ti dà condividere delle emozioni positive, come quella di assistere a un bello spettacolo, ti dà un afflato diverso con la tua comunità. Ma la cosa bella è che questi spettacoli hanno attirato persone da tantissimi paesi, da Frosinone, da Cassino, da Latina, da Terracina, persone che ritornavano nelle loro comunità con negli occhi i nostri beni e nel cuore le emozioni di avere assistito a spettacoli culturali di un certo livello. Tornando nelle loro città, parlavano in maniera entusiasta di Minturno e recuperare l'immagine di Minturno secondo me era l'obiettivo fondamentale perché noi negli ultimi anni Prima ancora di fare turismo, dici? Sì, ricomperare allora Minturno era la cenerentola della provincia di Latina, ce lo dobbiamo dire. Negli ultimi anni ha avuto un decadimento fortissimo che è coinciso con il decadimento di una classe con la fine della storia di una classe politica di una classe dirigente oggi c'è una nuova classe dirigente e c'è una nuova Minturno e questo si traspare per me è stata un'emozione bellissima poi spettacoli per tutti i gusti dai bambini ripeto dai bambini hanno invaso Piazza Portanova stupendo beh il Poesie Pop Festival è stata anche quella una scommessa nessuno ci credeva nessuno ci credeva anche lì mi sono dovuto imporre ho detto vabbè una cosa posso deciderla io come sindaco questa la voglio fare eccola qua i bambini impiastrati contenti i colori degli artisti sulle serrande arrugginite di Minturno diceva qualcuno ha detto il centro storico non va deturpato con colori con serrande colorate io immagino che in quei vicoli camminano tanti bambini i quali durante tutte le loro giornate camminano e guardano delle insegne chiuse arrugginite e angoli di degrado magari vedere delle insegne colorate leggere delle parole che esprimono che vogliono esprimere e condividere emozioni come sono le poesie magari il ragazzo il primo giorno ci passa distratto il secondo si ferma a guardare il disegno il terzo legge la frase il quarto inizia a scrivere anche lui delle parole di poesia e credo che questo sia anche una crescita culturale poi certo mi è stato detto sui social quelle serrande devono riaprire non dipende solo da noi la riapertura di quelle serrande perché puntiamo sul castello con questo progetto regionale perché il castello deve diventare un grosso attrattore culturale che porta centinaia di persone al giorno sopra Minturno nel momento in cui centinaia di persone al giorno vanno sopra Minturno nascerà la richiesta di caffè pizzeria bistro ristoranti attività bed and breakfast case vacanze allora ci vuole un motivo per salire sopra poi certo è il nostro compito portare a termine finalmente Minturno 3 4 che sono due grandi ferite nel costato dell'amministrazione che vengono dal passato e rimettere a posto un po' i ricoli che sono straordinari ma un po' abbandonati su questo subito dopo l'estate abbiamo già messo in bilancio 150 mila euro che utilizzeremo per fare un'operazione di restaring dei piccoli mi pare di capire che l'idea commerciale per il centro storico è quella turistica ma un turismo praticamente con tanti servizi ma i servizi i servizi nascono se c'è richiesta è la famosa domanda è offerta ma se non c'è richiesta perché non ci viene nessuno perché il panorama è bellissimo la cattedrale di San Pietro è fantastica molti non la conoscono quando facciamo i corsi di formazione gratuita per tutti i dipendenti degli enti locali di un'area vasta che va da Frosinone a Latina come è successo l'altro giorno giovedì vengono le persone e dicono madonna che bello ma noi non c'eravamo mai stati nel castello di Minturno e tu gli dici ma fatti una passeggiata magari arrivano alla chiesa e dicono madonna come è bello il centro storico del Minturno allora anche quello è promozione però questa va resa costante perché una tantum nessuno apre un'attività sapendo di poter lavorare un giorno a settimana un giorno a mese la apre se sa di poter lavorare quasi tutti i giorni quello è l'obiettivo sono passati 23 mesi anzi quasi 24 ne abbiamo davanti altri 36 io sono convinto che alla fine del viaggio anche il centro storico di Minturno avrà una luce diversa musei e per i nostalgici le biblioteche c'era nel programma quello di una biblioteca itinerante se non vado errato ma musei io vorrei focalizzarmi sui musei Minturno può fare un turismo museale e se si sta lavorando per tutto ciò allora noi il museo c'è a Minturno e quello funziona è assodato io potrei parlare una serata intera del nostro rapporto con l'area di Minturno e questo è un capitolo di cui discutiamo e saluto e ringrazio la dottoressa Bellini che è la direttrice dell'area archeologica che è di proprietà del ministero dei beni culturali gestita dalla sovrintendenza che tra poco passerà al polo museale del Lazio quindi c'è anche un cambio di governance sull'area archeologica noi abbiamo fatto il primo consiglio comunale nel teatro una cosa storica 1500 persone in diretta televisiva in diretta televisiva voi ci eravate come al solito grazie per testimoniare tutte le cose belle e anche quelle meno belle della nostra comunità abbiamo stipulato un protocollo di intesa per la valorizzazione di Minturno che ha consentito a tutte le scuole di accedere gratuitamente all'area le scuole di Minturno di Scauri liceo scientifico fanno gli spettacoli di fine anno al teatro romano nella settimana della memoria ci vanno mille ragazzi al teatro romano questo prima non succedeva io credo che sia da lì è nata la nostra civiltà la nostra comunità noi siamo tornati lì all'inizio di questo viaggio e credo che continueremo ad avere con quell'area un rapporto speciale mi hai rubato un complimento perché stavo per farti un bel complimento quello di aver riportato come da promessa al centro della città un'area che era diventata ormai periferica molto periferica il problema ormai annuale è quello del palco perché si parla da tanti anni di questo palco questa è una cosa maledetta ti ringrazio per questa domanda questa sembra veramente una storia maledetta allora noi volevamo intervenire subito sul palco il palco è di proprietà del ministero dei beni culturali noi non possiamo utilizzare i soldi dei nostri cittadini per un bene che non è nostro abbiamo accompagnato la dottoressa Bellini e la sovrintendenza nella redazione di un bando che metteva a gara la gestione quinquennale della stagione teatrale e chi si impegnava a realizzare la stagione teatrale e a gestire i relativi servizi connessi avrebbe rifatto anche il palco si fa questa procedura si aprono le buste si arriva al momento topico purtroppo succede una disgrazia in mane alla familiare della dottoressa Bellini di cui non voglio parlare si riparte la mattina di Pasqua il sovrintendente Urciuoli non si sveglia più dal sonno muore questa procedura rimane appesa la dottoressa Bellini la va adesso il 28 maggio per chiudere arriva il nuovo sovrintendente la blocca e l'annulla perché dice tanto l'aria deve passare al polo museale se la vedrà il polo museale sembra una strada maledetta sembra un film però noi non ci stiamo arrendendo stiamo facendo spettacoli abbiamo montato un palco davanti al palco ovviamente non si può fare il teatro professionale faremo degli spettacoli e proveremo anche a luglio e agosto a fare degli spettacoli che siano compatibili con con l'attrezzatura presente nell'aria e con i problemi di sicurezza perché in quell'area ci vanno più di mille persone con una serie di vincoli e problemi logistici nel deflusso delle persone quindi ogni volta ci prendiamo una bella responsabilità ad autorizzare e svolgere eventi in quell'area però la voglia è troppo forte il desiderio di riaccendere le luci su un minturne è stato troppo forte e abbiamo remato anche controcorrente è stato tracciato un solco un solco serve per differenziare quindi differenziare dall'idea di manifestazioni culturali del passato o ci si rifarà in questa stagione estiva con le varie sagre o con cioè qual è il progetto di questa amministrazione di grandi eventi sagre no vabbè ma guarda che le sagre le manifestazioni le feste popolari perché la sagra della vacca marchigiana è una festa popolare di Fontana perché la Madonna del Carmine è una festa religiosa importante è uscito oggi il bando per i posteggi il bando per i posteggi perché le cose si fanno con delle regole con delle procedure nessuno questo lo dice ma non si a mio intorno non so da quanto tempo non si facevano i bandi pubblici per assegnare regolarmente i posteggi durante le feste e noi lo abbiamo fatto insomma dicevo tutti quei piccoli eventi la serata la corrida a pulcherini insomma tutte queste cose che si fanno sul territorio sono cose che devono essere mantenute perché sono fanno parte della nostra comunità fanno parte del nostro essere della nostra storia ovviamente accanto a queste ci realizzeremo degli eventi tra virgolette diversi ti posso già dire sicuramente che tutti i giovedì dei mesi estivi si farà il teatro per i ragazzi che tutti i venerdì avremo i burattini i famosi burattini che tanto ci piacevano almeno a me quando ero quando ero bambino e che per un periodo sono scomparsi dal nostro territorio stiamo lavorando su qualche serata musicale c'è anche un altro problema che avendo investito molto in solcare e avendo l'obbligo di pagare quest'anno 2 milioni di euro di debiti abbiamo un bilancio molto ristretto quindi non avendo un bilancio florido non è la possibilità di programmare quando cerchi un grande artista lo devi prenotare a marzo aprile a maggio arrivarlo l'ultimo a 20 giorni non trovi più niente ma per prenotarlo a marzo aprile a maggio devi avere i fondi a dicembre noi purtroppo quest'anno avremo ancora questo problema e io mi concentrerò molto sul pagamento dei debiti l'ho anche detto ai miei assessori guardate io sono pronto anche per 6 mesi a non fare più niente ad avere 6 mesi di critiche feroci però ci dobbiamo togliere lo scoglio dei debiti perché se no non riusciamo a programmare non riusciamo a fare tutto quello che facciamo immaginate avere un milione di euro l'anno liberi per poter organizzare manifestazioni turismo potenziare servizi sociali sono tanti voglio aprire un'altra pagina complicata di quelli che poi sono i programmi di un candidato al sindaco il sociale allora come sta operando l'amministrazione rispetto a quello che era l'idea del passato del sociale amminturno spesso e volentieri Stefanelli consigliere criticava il sociale delle precedenti amministrazioni noi abbiamo assicurato l'assistenza specialistica ai ragazzi diversamente abili nelle scuole cosa che amminturno non era mai stata fatta l'assistenza veniva garantita con delle persone con delle borse lavoro con delle persone che non erano dotate di specifiche professionalità da settembre avremo 12 ragazzi del servizio civile che andranno ad aiutare ancora di più nel mondo scolastico sul settore della disabilità abbiamo aumentato i fondi per le famiglie indigenti che erano stati completamente cancellati dal commissario straordinario abbiamo restituito ai cittadini tre anni arretrati di contributi per i libri di testo per gli affitti il rimborso dello sconto sulla tassa dei rifiuti abbiamo praticamente messo i soldi nelle tasche dei cittadini i soldi che i cittadini aspettavano da tre anni abbiamo dato una nuova sede al centro diurno di Sabri che credo che sia molto più dignitosa molto più ampia con tutta una serie di attività tra l'altro saluto sia i ragazzi che i dipendenti del centro che li hanno accompagnati nel famoso campionato europeo di danza sono stati ancora una volta campioni nazionali di danza parolimpica per noi è un orgoglio ma la cosa che mi è piaciuta di più è che è una cosa che io sentivo sapevo dentro di me è stata la socializzazione che è avvenuta fra il centro anziani e il comitato civico di Tufo con il centro diurno di Sabri c'è stata una socializzazione veramente commovente e io ci lo sapevo e ci speravo perché poi ho incominciato in questi anni a conoscere anche meglio le comunità le piccole comunità diciamo delle piccole frazioni e so quanto umanità c'era in quel luogo e quindi ero convinto che portando il centro diurno lì si sarebbe realizzata una bella socializzazione e così è stato ci abbiamo da fare ancora tantissimo per quanto riguarda i servizi sociali dobbiamo aumentare i fondi per l'assistenza domiciliare purtroppo siamo costretti a tenerli al minimo per mancanza di disponibilità ma dal 2019 tutto questo sarà possibile grazie al fatto che non avremo più una montagna enorme di debili da vagare ma magari delle piccole colline che possono essere affrontate con maggiore serenità chiedo a Biagio Coppola di non cambiare questa grafica 5 per 1000 al comune di Minturno sorride Gerardo Stefanelli mi dispi allora da una parte questo l'ho voluto io è stata una cosa spontanea poi mi sono reso conto che magari qualcuno ha criticato nella dichiarazione dei redditi oltre alla donazione a favore delle associazioni e dei partiti politici si può fare una donazione solo al proprio comune di residenza io non lo sapevo questo come l'ho scoperto perché nel bilancio nei residui ho trovato 3000 euro e chi è stato ragionare che questi sono i soldi del 5 per 1000 insomma per farlo a breve nei tre anni precedenti c'erano cittadini che avevano donato il 5 per 1000 al comune senza nessuna campagna pubblicitaria e il comune ha questi soldi in cassa che deve spendere per servizi sociali e allora ho detto proviamo a fare non il crowdfunding per carità una parola troppo grande però proviamo a spingere un po' magari riusciamo a recuperare delle donazioni che possiamo utilizzare per implementare e rafforzare le politiche sociali e li destineremo li destineremo all'apertura di tre centri centri di urni per minori centri di animazione insomma ci siamo accorti che c'è molta povertà educativa e spesso ci sono delle situazioni di degrado e di difficoltà in cui è meglio che i ragazzi stanno in non voglio dire che è meglio che stanno fuori di casa ma è meglio che stanno all'interno di una comunità in un gruppo in un gruppo per aiutarli a vivere meglio per aiutarli a evitare fenomeni di devianze e di dipendenze e di creare dei centri dove i ragazzi possono essere accolti e quindi accolti possono studiare possono essere aiutati nello studio possono giocare possono essere tenuti sotto controllo perché magari tu non riesci ad avere la situazione in polso di tante famiglie ma se invece il bambino sta in un gruppo parla e allora magari le situazioni di disagio vengono fuori su questo conto molto sull'aiuto delle parrocchie perché soprattutto nel nostro paese sono fondamentali perché aiutano tantissime persone in silenzio e non voglio dire di nascosto ma senza con l'evidenza pubblica che invece alcuni personaggi cercano lo puoi rimettere Biagio scusami faccio un fuori programma vi invito tanto in questo mese la gran parte di noi va a fare la dichiarazione dei redditi quando andate al vostro commercialista chiedetegli di barrare la casella per la donazione del 5 per 1000 al comune di residenza non li sottraete ad altre associazioni o ai partiti ma li darete al comune e il comune sarà obbligato ad utilizzarli per scopi sociali con questi fondi noi realizzeremo tre centri per minori quindi vi invito non c'è bisogno neanche di conoscere il codice fiscale vi invito a chiedere al vostro commercialista di barrare la casella che vi consente di destinare il 5 per 1000 al comune di residenza grazie per lo spot gratuito è un piacere e per un buon fine allora prima di parlare perché dobbiamo ancora parlare di amministrazione territorio e commercio per me possiamo parlare tanto tempo tiriamo a lungo ancora uno spazio per i social Emanuela sì un'ultima domanda per quanto riguarda i debiti fuori bilancio come mai questa amministrazione si è sentita in dovere quindi ha sentito questa responsabilità di doversi occupare di questi debiti che in passato si sono accumulati beh un ente è un'amministrazione vive anche di credibilità abbiamo detto prima quanto sia importante l'immagine e la percezione esterna che hanno di Minturno e della comunità di Minturno la credibilità significa fiducia dietro ai debiti ci sono professionisti aziende artigiani imprenditori persone fisiche che magari hanno avuto un incidente e devono avere un rimborso ci sono creditori non è che i debiti io non mi posso consentire di chiedere alla BCE di cancellare il debito di Minturno quindi li devo pagare beh però potevate tranquillamente magari rimandare oppure fare come è un'operazione di rispetto nei confronti di coloro che avanzano dei fondi dal comune di Minturno soprattutto nei confronti di coloro che hanno prestato un'opera un servizio un'impresa ci sono persone che arrivano che fanno i piccoli artigiani o piccoli imprenditori e con quello che devono avere dal comune di Minturno magari fa la differenza fra un saldo positivo e un saldo negativo annuale della propria attività io credo che sia stata un'operazione di etica della responsabilità allora rubo un attimo la parola di Mamela questi frequentatori di social sono molto evoluti però fanno domande molto io ho sbirciato io ho sbirciato sui social si parla qualcosa di più pepata non c'è qualche busta qualche escrevento di cane allora ci sono che va tanto sui social anzi invito il sindaco di Minturno ad andarsi a vedere i commenti nel posto posso rubarti un secondo perché adesso mi è venuto in mente una cosa sull'operazione del poesia pop festival tutti siamo impegnati no tutti molti sono impegnati a fotografare tutte le cose brutte che esistono la macchina sulle strisce bianche l'escremento di cane la busta buttata o altro pochi guardano e fotografano bellezza il territorio a parte i tramonti e ci pensi fantastico fare decorare rendere i luoghi più belli vuole essere anche un'operazione lo so che forse è metafisica illusoria ma anche di regalare bellezza cioè tu quando vedi una cosa bella ti senti secondo me felice quando arrivi sopra Montedoro e vedi l'orizzonte immenso dici che bello e quel dire che bello ti dà una percezione positiva anche all'interno anche all'interno e quindi sei anche predisposto meglio nei confronti della vita per questo io credo che ci dobbiamo occupare anche soprattutto di bellezza perché poi la vita la bruttezza la vita abbondano non c'è bisogno di spiatterlarcele in faccia ogni momento chiedo scusa della parentesi e vi ringrazio allora c'è sicuramente da leggere i commenti che arrivano sopra la nostra diretta perché ci segnalano strade che hanno problemi verde la savana quindi sicuramente ne abbiamo già parlato di manutenzione del territorio quindi invito magari chi si è collegato in passato lo dirò lo dirò adesso io lo chiamo la sindrome del più uno perché se tu dici che è asfaltato via X trovi qualcuno sotto e ti dice ma via Z se dici poi dopo un mese fai via Z esce l'altro e via F c'è il più uno c'è sempre una cosa in più da fare ma questo è uno stimolo soprattutto per degli amministratori noi abbiamo 500.000 euro di asfalti che partono fra 15 giorni altri 500 sono in gara sono arrivate le buste e stanno aprendo l'offerta economica altri 600 stiamo finendo l'individuazione delle strade il computometrico per ottobre novembre da quando sono stato eletto a novembre 2018 io avrò investito 2 milioni di euro 2 milioni di euro per il rifacimento degli asfalti altro mezzo milione lo investirà l'astra che sta aprendo le buste per via Santa Reparata via Balbo via Marconi e le traverse di collegamento avremo investito in due anni 2 milioni e mezzo di euro sul rifacimento degli asfalti 1 milione e 8 sul rifacimento dei marciapiedi partendo da quello famoso sopra Scauri passando per quelli al centro di Scauri finendo per quello di Marina che porta al teatro romano avremo investito 4 milioni di euro tra strada e marciapiedi in due anni tutto non è possibile credo che qualcosa stiamo facendo ci vuole un altro po' di pazienza anche a me quando cammino perdonatemi il francesismo mi rosica vedere e per questo ho chiesto scusa ma l'ho chiesto con orgoglio con un atto di forza qui ci hanno mandato delle foto dove si vede non di debolezza eh sì questa è la strada di vinturno che scende lo sappiamo benissimo è in programma nei prossimi giorni verrà fatta lo facciamo il nome nel bene o nel male comunque la partecipazione cioè la denuncia da parte del cittadino è una cosa positiva significa che sono attivi ma a volte è ancora attivo il numero verde per l'esigenerazione la possibilità di poter chiedere significa che non mi vedono lontani io non queste cose non mi piccano non mi danno fastidio anzi il territorio di vinturno è enorme vinturno è il doppio di Gaeta come estensione territoriale 42 km contro i 24 di Gaeta Gaeta c'è 24.000 abitanti vinturno 20.000 per dare dei numeri Gaeta c'è 180 dipendenti vinturno ce ne ha 80 a tempo pieno se calcoliamo il tempo pieno questo per dare dei numeri e far capire anche la diversità delle problematiche a volte a me queste segnalazioni mi servono perché io non riesco a tenere sotto controllo tutto il territorio ma io via l'ascesa a Tufo non è che la posso fare tutti i giorni capita no via Monte Natale Superiore la farò quando vado a trovare il mio amico che abita lì che ha delle marmellate buonissime ma non è che ci passo con la macchina perché sto andando a fare un servizio è ovvio che queste segnalazioni ci aiutano a tenere e molte persone lo possono testimoniare che i problemi che vengono segnalati in qualche modo vengono attenzionati non tutto si riesce a risolvere subito una sacchetta di asfalto freddo la puoi far mettere dall'operario il giorno dopo un asfalto di un chilometro devi fare la gara devi impegnare i soldi devi fare il computometrico devi approvare il progetto devi andare in gara devi aspettare la CUC la centrale unica di committenza con tutte le sue problematiche amministrare non è una cosa semplice allora io proprio però noi non ci sottraiamo ai social diversi sindaci scompaiono dopo un po' noi siamo rimasti lì certo poi capita anche che banni la persona che è maleducata è offensiva o vuole solo fare polemiche strumentali però credo che anche quello sia consentito e permesso allora torniamo alle canoniche domande no? amministrazione concorso dei vigili alzate un po' di polverone questo concorso dei vigili attendiamo i famosi due vigili quelli che vanno a completare un po' l'organico e i vigili stagionali com'è la situazione allora vorrei dire una cosa sabato andavo in macchina con vigili a Latina gli ho chiesto ma da quant'anni non si fa un concorso a quanti anni 33 sono 33 anni che non viene bandito un concorso per vigili urbani nel comune di Minturno io dopo un anno l'ho bandito a inizio luglio c'è la prima prova preselettiva sono due posti a 18 ore settimanali perché abbiamo l'idea di impiegarli su 6 mesi su 12 36 ore settimanali per 6 mesi in modo tale di averli quando non abbiamo gli stagionali questa è la prima cosa sono 33 anni che non si faceva un concorso dei vigili in comune di Minturno noi lo stiamo facendo dopo un anno no dopo 33 mesi dopo un anno siamo stati costretti a fare un concorso per rifare la grado d'ore per i vigili stagionali nel concorso non ci sono state polemiche abbiamo fatto le prove orali e i titoli perché chi va chi viene preso e buttato in strada la mattina e la sera deve avere o un minimo di esperienza o un background culturale di studi che gli consenta di capire quello che va a fare parliamo di pubblici ufficiali che fanno sanzioni che ridicono atti amministrativi non pizze e fichi purtroppo perché abbiamo fatto il predistesto e ci siamo messi la corte dei conti vicino ogni assunzione deve essere autorizzata dal ministero dell'interno abbiamo fatto la pratica per andare in commissione e avere l'ok il giorno che si riunisce la commissione Mattarella dà il preincarico a Conte per cui decade il governo Mattarella decade il ministro dell'interno e il sottosegretario che presiede la commissione la commissione per cortesia istituzionale non si riunisce e viene rimandata speriamo però qui ci vuole un po' quasi un battesimo perché Vinturo sta soffrendo di queste situazioni speriamo che se il governo lega 5 stelle al più presto possa nominare i sottosegretari in tal modo individerà anche il sottosegretario che deve presiedere quella commissione ovviamente la presiede dal punto di vista formale perché gli atti poi rifanno i funzionari i dirigenti del ministero però il dirigente dice giustamente è cambiato il presidente formalmente cortesia istituzionale vuole che e noi come nel discorso del teatro è capitale di tutto è capitato un'estate intera senza acqua è capitato la neve dopo 33 anni è capitato purtroppo tutte le tragedie che abbiamo visto sul palco è capitato questo dei vigili non fa niente andiamo avanti mancano le locuste quello che non ucciderà forza quindi siamo qui macchina amministrativa come l'ha personalizzata in questi due anni personalizzata ovviamente si fa per dire perché non si possono fare assunzioni quindi come è andato un po' a modellare gli impiegati comunali i funzionali e quanto c'è ancora da fare abbiamo cambiato il segretario generale che è il vertice della macchina amministrativa abbiamo scelto di portare a venturno tre funzionali che venivano da altri comuni in un caso dalla provincia di Latina perché abbiamo portato persone che avevano già esperienza che portavano modelli ed esperienze di lavoro più qualificate rispetto a quelle di minturno e credo che in quei settori stiamo andando stiamo avendo grandi risultati e abbiamo cercato di rimotivare il personale interno dandogli la formazione dandogli gli strumenti le banche date la possibilità di accedere a pareri e a consultazioni gratuite con professionisti di primo livello come la gazzetta amministrativa quindi gli abbiamo dato gli strumenti per poter affrontare con coscienza e responsabilità i temi amministrativi che si trovano tutti i giorni sulla scrivania gli abbiamo ridato la dignità restituendo loro tutta una serie di spettanze che erano state congiolate negli anni siamo stati i primi a dare le indennità di risultato in base a delle schede e dei criteri oggettivi anche le indennità dei capi servizi sono state parametrate secondo dei criteri oggettivi relativi al carico di lavoro al numero di personale al tipo di responsabilità prima il sindaco decideva a Giuseppe gli do 10 a Emanuele gli do 12 perché è amica mi è simpatico del mio partito e a Biagio gli do 6 oggi non è più così oggi c'è il nucleo di valutazione che pesa i settori attribuiti e gli dà un valore a prescindere dal nome che c'è in quel settore e lo stesso viene fatto per le schede di produttività questo significa incentivare il merito significa dare fiducia a quei dipendenti che vogliono lavorare significa riconoscere il merito a quei dipendenti che sanno lavorare più degli altri credo che dopo una prima iniziale diffidenza sia cambiato anche il rapporto io lo sento quotidianamente io vivo il comune quotidianamente giro anche gli uffici mi soffermo anche non solo in via ufficiale ma anche in via scherzosa dal punto di vista personale credo che sia cambiata anche la percezione dei dipendenti io oggi sento che la gran parte dei dipendenti è contenta di avere un'amministrazione che amministra di avere un'amministrazione che fa cose di avere un sindaco che tiene al suo comune e al suo ente spero che questo rapporto possa continuare ad evolversi così come sta facendo come ha fatto in questi mesi so che stiamo andando lunghi ma purtroppo no no io sono contentissimo abbiamo gli argomenti da sviscerare abbiamo ancora un po' di un po' di social in più fra poco torniamo fra poco torniamo i social non solo quelli aulici no più che altro ci segnano anche quelli anche quelli senza H e senza accento Emanuele ok allora fra poco ci torniamo subito territorio ha parlato tanto di frazioni in campagna elettorale c'è ancora questa differenza tra le frazioni e il famoso centro perché poi bisogna sempre capire se si parla di scaurio o di vinturno come centro ma vedi usa una metafora prima di venire qui stavo facendo vedere a mio figlio un video di una trasmissione lessico familiare di Massimo Recalcati in cui diceva che a scuola non tutti hanno le stesse inclinazioni e con ognuno deve essere bravo a seguire quello di cui è appassionato perché nella differenza sta l'uguaglianza non nel fatto che siamo nell'omologazione perché ho usato questa metafora perché ognuno ha una sua specificità ma noi non possiamo mai pensare che Pulcherini possa essere uguale a Scauri o Tufo possa essere uguale a Marina di Minturno o Santa Maria Infante possa essere uguale al centro storico di Minturno ognuno ha le sue peculiarità ognuno ha le sue differenze ognuno ha la sua importanza qualcosa abbiamo fatto qualcosa faremo sicuramente daremo ad ogni frazione un punto di aggregazione rifaremo allargheremo la piazza a Tufo la renderemo pedonale e costruiremo un'area giochi un po' più nutrita per accogliente per i ragazzi e i bambini di Tufo lo stesso credo che faremo anche a Pulcherini la Casa della Pace a Santa Maria la Casa del Contadino sta in elaborazione il bando per trasformarla in Museo della Pace e incominciare tutto un percorso anche di valorizzazione turistica Tremensuoli ha il suo assessore che da punto che la tiene in considerazione e anche lì faremo degli investimenti sulla piazza nei prossimi anni sicuramente alla fine dei cinque anni avremo fatto un grosso investimento in ogni piccola frazione però dobbiamo uscire dalla logica dello scontro io l'ho sempre detto in campagna elettorale te lo ricorderai siamo un paese diviso diviso fra frazioni diviso fra parrocchie diviso fra associazioni diviso fra persone dobbiamo eliminare questo conflitto è cambiata questa divisione io credo che stia cambiando noi insistiamo molto noi cerchiamo di coinvolgere sempre tutti quanti a volte siamo proprio noi amministratori a chiedere a delle persone per favore ritorna a partecipare a quel tipo di manifestazione fallo per noi perché insieme è più bello gestione delle acque rete fognarie a flusso dell'acqua c'è stata una famosa conferenza stampa con acqua latina dove si è presentato il progetto di quello che si vuole fare a Minturno abbiamo qualche diavositivo di quello che si fa a Minturno non di quello che si vuole fare sono opere finanziate il lavoro di sostituzione integrale di alcune linee di condotte quindi non la pezza la fascetta la lana intorno la sostituzione integrale di centinaia di circa 15 km di condotte se non vado errato cambieremo hanno incominciato in questi giorni a Scauri via Impero via Colombo via Colombo è stata fatta l'anno scorso è in incominciato ad essere a Scauri continueranno nei prossimi mesi investirà acqua latina 2 milioni e mezzo di euro sul rifacimento delle condotte idriche comunali sono 200 km 15 km li cambiamo completamente costruiremo la condotta che da cellule porterà acqua a Minturno e quindi risolveremo definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico anche nel momento di difficoltà e di carenza della risorsa questa immagine se la fermi torna indietro credo che non può quella a colori sono i 16 distretti in cui verrà divisa Minturno eccola qua Minturno che cosa significa? che oggi sono due distretti la linea delle colline e quella della piana per cui se si rompe una condotta principale a Simonelli dobbiamo togliere l'acqua tutta la piana per una giornata intera domani con i distretti riusciremo a chiudere l'acqua in maniera intelligente localizzata riusciremo a fare degli interventi localizzati e avremo una gestione anche delle perdite migliore perché sapremo quant'acqua arriva a quel distretto e quante ne viene effettivamente fatturata tutto questo è stato fatto con noi da dicembre 2016 ad oggi 2 milioni e mezzo di euro sulle condotte e 6 milioni di euro per la realizzazione del collegamento con cellule in cui la regione campagna mette 5 milioni di euro la regione Lazio un milione di euro e 200 mila euro solo 200 mila euro vanno a carico delle bollette io credo che questi siano grandi risultati è ovvio se non pioverà mancherà ancora l'acqua però parliamoci chiaro questi sono risultati della politica dell'amministrazione che denotano la forza politica della nostra amministrazione la capacità di stare sui tavoli che contano io ho partecipato in rappresentanza di tutti i sindaci pontini al tavolo del distretto dell'Appennino centrale e del distretto campano ci siamo Minturno c'è Minturno è considerata e Minturno ha una sua visibilità una sua forza politica questo deriva la fiducia l'immagine la credibilità la stabilità della politica noi non abbiamo avuto in 24 mesi faccio la ricorda non abbiamo avuto una crisi di governo ma non abbiamo avuto mai due consiglieri che sono venuti dicendo noi oggi non veniamo a votare perché ci devi dare questo perché devi fare quello questa stabilità di cui ringrazio veramente i miei consiglieri comunali è per noi la principale forza politica perché ci dà la possibilità di pensare a lavorare ci dà la possibilità di fare le cose decidiamo e facciamo non perdiamo sei mesi a discutere a litigare a creare crisi a fare passaggi di gruppi la stabilità politica è una forza fondamentale per il governo del paese e credo che questo ci dia una forza politica enorme accorciamo poi abbiamo portato un ex presidente del consiglio dei ministri l'uomo più amato e odiato della politica italiana il presidente della regione Lazio il vice presidente della camera insomma un po' di di personaggi li abbiamo portati a mintur si è smosso ma di personaggi politici vabbè non voglio parlare sennò poi perdo anche i consensi allora un tema importante lo tratteremo sommariamente magari ci rivedremo poi in seguito il commercio la giunta Stefanelli ha lavorato subito appena entrata in essere sul commercio il famoso commercio estivo i famosi mercati estivi a che punto è questa lotta al commercio abusivo e se ciò ha portato alla creazione di nuove attività che oggi persistono ma guarda io non è una questione di creazione di nuove attività è una questione di rispetto di rispetto delle regole di rispetto delle persone che alzano alla serranda tutti i giorni di rispetto del decoro di rispetto di quello che l'amministrazione decide che debba essere un paese il ZUC alle 6 era una cosa vergognosa io incontro solo persone che mi ringraziano per aver tolto di mezzo rumori puzze roba falsa sulle banche parliamo di un paese che ha due mercati settimanali dove le persone possono svolgere le loro attività di ambulanti ma se l'ambulante vuole aprire tutti i giorni nello stesso posto allora non è più un ambulante è un commerciante fisso a questo punto si fitta un locale ce ne sono ancora tanti sfitti e svolge la sua attività al pari degli altri io credo che quella sia una decisione su cui la prima estate abbiamo provato a tendere la mano e abbiamo avuto un comportamento non rispettoso di noi del nostro comando di polizia locale della nostra cittadina abbiamo dato un taglio perché una volta che tu dai una possibilità e questa è qualcuno pensa di fare il fulbo è giusto reagire io sono non mi sono pentito di questa scelta Elisa Venturo ha lavorato tantissimo sulla sistemazione dei mercati sulle regole sulla pubblicità delle procedure per l'assegnazione dei posti nelle varie feste patronali nelle fagre nelle fiere credo che di doverla ringraziare per tutto quello che ha fatto speriamo di poter trovare una location diversa per il mercato settimanale di scauri e di minturno che sia più adeguata più igienica e anche con più servizi però abbiamo ancora un po' di tempo insomma Manuela hai altro da social? no domande non ce ne sono dai segnalazioni ci chiedono a chi e dove possono rivolgersi i cittadini in generale per fare le segnalazioni agli uffici all'ufficio relazione esterna del comune di minturno relazione esterna chiocciolacomune.minturno.lt.it alla segreteria del sindaco sui social al sindaco agli assessori di persona una volta c'era un portale dove si poteva seguire l'iter delle segnalazioni è cambiato tutto ciò? questo non non lo conosco sicuramente oggi si usano le app e non si usano più i portali e anche quella è una cosa che dovremmo mettere a punto insomma c'è ancora tanto da fare ci sono tre anni ragazzi dobbiamo quindi si ferma e perduta non prova a estorcere nulla su quello che è il progetto SIECI e Castello perché so che c'è le SIECI il Castello l'abbiamo presentato pubblicamente tecnologie innovative movie maker videomapping tridimensionali avatar insomma un po' di roba del genere ma niente che non esista già in altre località sulle SIECI in settimana avremo un incontro importante c'è un gruppo imprenditoriale di livello internazionale che è interessato alle SIECI per un progetto di recupero delle SIECI e di valorizzazione commerciale delle SIECI rispettando le tradizioni e i prodotti tipici locali e ovviamente con tutta una serie di spazi gratuiti a fuori dell'amministrazione dalla biblioteca al centro anziani al centro congressi a una sala congressi a una serie di attrezzature sportive gratuiti per i ragazzi alle aree verdi e in settimana avremo questo incontro se sono rose fioriranno se lo riterranno opportuno presenteranno al comune una proposta di progetto di finanza e a quel punto il consiglio comunale la valuterà io sono molto fiducioso e sono molto entusiasta perché ne ho visto una bozza mi piace sono 38 anni che la comune che il comune ha comprato quell'area sono 38 anni in cui noi difficilmente abbiamo visto un progetto esecutivo finanziato e canterabile sarebbe veramente una cosa grandiosa poterlo realizzare noi sia per il poi credo che quello farà da volano anche per il recupero e la valorizzazione di tutta l'area a parte i posti di lavoro che si creeranno ma si creerà un indotto fantastico è prevedibile anche il famoso edificio scolastico unico in questo progetto? su questo ci siamo dovuti un po' fermare e ricredere perché cosa che non abbiamo detto la regione Lazio ci ha dato 2 milioni e 600 mila euro e il Cipe 400 mila euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento di 7 edifici scolastici che stanno partendo quindi noi che affideremo nelle prossime settimane abbiamo fatto la variazione abbiamo messo i soldi sui capitoli di bilancio per dare gli incarichi progettuali dopo gli incarichi progettuali andranno in gara credo che i lavori si realizzeranno nel periodo giugno settembre 2019 per ovvi motivi le scuole devono essere chiuse noi metteremo a posto in sicurezza tutti gli edifici scolastici comunali a quel punto diventa difficile giustificare la realizzazione di un polo unico però ci ragioneremo un po' di più intanto mettiamo a posto in sicurezza tutto il patrimonio scolastico comunale scusate se poco 3 milioni di euro di investimenti la scuola dell'infanzia di Marina di Minturno quella sotto la farmacia è abbandonata da 15 anni Lotti Luca Lotti con il Cipe ci hanno dato 500 mila euro per terminarla è giunta l'ora che fanno ridere il cuore insomma poi io per i bambini e per le scuole ho un'attenzione particolare e devo dire vengo ricambiato con un affetto commovente soprattutto nelle scuole elementari e medie quelle di vostra competenza ma le elementari mi abbracciano mi salutano mi danno il 5 è veramente una cosa commovente insomma forse la cosa più bella di fare il sindaco sei quasi commosso eh no no mi commuovo veramente allora io anticipo i commenti sui social anticipo i commenti sui social il sindaco parla di bambini ma il parco José Maria Escriva de Balagher il famoso parco Recillo una croce delizia di tutte le amministrazioni è stata tagliata l'erba se non sbaglio ma come lavorare è una notizia che è stata tagliata vedi dove dobbiamo cambiare che è una notizia che è stata tagliata l'erba io credo che noi dovremmo trovare una forma di gestione di quel parco che coinvolga anche i privati perché è un'area enorme a scavoli non è andata male perché la fontana è stata cuba è un'area enorme e la rinnoviamo l'abbiamo appurata in consiglio comunale la rinnoveremo per altri nove anni l'esperienza di piazza Marco e quindi di scavola anche se io lì ho un grosso progetto di trasformazione per unire la piazza il far sparire il lungomare e fare un'enorme piazza sul mare però non lo dicevamo prima sennò poi non lo realizziamo e ci dicono che l'abbiamo detto non l'abbiamo fatto il parco Recillo le paperelle per farci capire da tutti credo che dobbiamo fare una riflessione con la gestione e coinvolgendo i privati perché è un'area enorme che richiede una manutenzione e un'attenzione costante che noi non possiamo è impensabile che con le nostre forze le nostre risorse umane noi riusciamo ad avere una gestione di quel parco così come merita però cambieremo tutte le giostre lì alla villa di Minturno e alla D'Arsena di Scaoli dove già è arrivata la fontanella già stanno vagliando i preventivi faccio ancora il leone la fontanella perdonami la fontanella sembra una cavolata quella fontanella consumava 6 metri cubi d'acqua al giorno 6 metri cubi d'acqua al giorno sono 6.000 litri d'acqua al cimitero ci siamo accorti che consumavamo 11.000 litri d'acqua al giorno perché avevamo due grosse perdite che nessuno aveva mai individuato come ce ne siamo accorti? perché abbiamo dato l'incarica a una società che ci tiene sotto controllo i consumi i consumi elettrici i consumi di gas di gasolio i consumi idrici e grazie a questa società siamo andati ad intervenire su tutta una serie di criticità a me non sembra bello buttare a parte i soldi ma buttare anche 20.000 litri d'acqua al giorno in una città che magari sta senza acqua e quindi ecco perché abbiamo cambiato la fontanella poi abbiamo messo il rubinetto poi qualcuno ci si divertiva a mettere lo stuzzicadenti perché se l'acqua corre sempre fredda e quindi quando vanno a bere la trovano fredda piuttosto che calda allora abbiamo rimesso una manovella però gli operai hanno preso una manovella un po' che stona un po' a livello di stile e vabbè ci stiamo lavorando quindi come sarà questa stagione a livello idrico? ma oggi le sorgenti sono ancora piene sono cariche l'anno scorso io Facebook anche a voi vi sbatte in faccia i ricordi degli anni passati magari le foto gli episodi e a me qualche giorno fa mi ha fatto ricordare che al 30 maggio dell'anno scorso abbiamo avuto il primo giorno completo senza acqua oggi le sorgenti sono ancora piene l'anno scorso è stato l'anno in cui negli ultimi due secoli ha piovuto di meno venivamo da tre anni di piovosità decrescente quest'anno ha piovuto abbastanza anche se le piogge di quest'inverno le troveremo in sorgente a settembre-ottobre mi sembra che la situazione la affrontiamo in maniera diversa non so quanto reggerà sicuramente vivremo un luglio sereno agosto probabilmente avremo i stessi problemi che abbiamo da 20 anni capitolo sicurezza si parla spesso di sicurezza del territorio di Vinturno spesso e eventi si sono chiesti presi alla stazione si sono chiesti controlli ultimamente ci sono i camper che hanno mostrato in alcuni foto social parcheggiati un po' ovunque prima di arrivare ai famosi tavoli d'urgenza prenotati in piena stagione estiva dove magari è già successo qualcosa qual è il cammino che si sta intraprendendo anche se sembra ormai tardi già giugno inoltrata questa situazione il cammino che è stato no che si sta intraprendendo il cammino realizzato è io divento sindaco abbiamo 33 telecamere ne funzionano 7 oggi abbiamo 110 telecamere tutte funzionanti collegate in tempo reale a cui sono collegate in tempo reale la stazione dei carabinieri di Formio quella di Vinturno quella di Scauri il commissariato di polizia di Formio e la guardia di finanza grazie a queste telecamere sono stati individuati autori di alcuni reati anche abbastanza gravi tipo l'accoltellamento delle scorse settimane la scippo sul lungomare e tutta un'altra serie di situazioni credo che questo il sistema di videosorveglianza almeno nei tavoli che facciamo in prefettura per gli altri sindaci è invidiato da tutti perché noi ce l'abbiamo gli altri se ce l'hanno ce l'hanno molto molto minore e la sicurezza è una cosa che ha a che fare anche con la cultura con l'educazione con la partecipazione della collettività io io non vedo dei grandi problemi i camper i camper sono come le altre automobili possono sostare da tutte le parti diventano diverse nel momento in cui aprono stazionano cacciano tavoli e sedie a quel punto è opportuno che i vigili intervengano considerato che abbiamo otto risorse umane che ovviamente si dividono in dei turni che ovviamente il contratto collettivo nazionale ti impedisce di far lavorare più di due domeniche al mese che tra processioni eventi rifiuti e probabilmente stanno in sovraccarico e quindi è ovvio che non può stare su tutto ci scusiamo di questo non dipende da noi ringraziamo il comandante e i suoi uomini per quello che riescono a fare e ci auguriamo che il governo nazionale possa più presto individuare i sottosegretari in modo tale da fare questa benedetta commissione e far partire i ragazzi che hanno tra l'altro anche molta voglia di lavorare voglio chiudere con una bella nota il gemellaggio il famoso gemellaggio abbiamo finito non c'è più nessuno non so se c'è qualcosa sono usciti tutti a cena ci saluta Mimma Nuzzo da Basilea ciao Mimma Mimma è andata una settimana a trovare il nostro concittadino figlio di Mimma Michele Camerota console italiano e quindi un onore per questa città la salutiamo ciao Mimma è sano perché non si è mai fatto nulla però con Michele abbiamo appena cominciato abbiamo troppi problemi locali troppe piccole cose da risolvere ancora faremo qualche cosa poi Michele cerca sempre di tenere distinto sai la mamma è assessore di un'amministrazione lui comunque rappresenta lo Stato italiano appena può correre a minturno ma si ci segue da lontano sicuramente allora sicuramente poi leggeremo tutti i commenti finita la trasmissione se noi li abbiamo ancora stessi in serata magari no no la finiamo qui il gemellaggio con la città di Ortona che già utilizza il brand Linea Gustav per un vino è un percorso percorribile loro hanno le cantine che fanno il vino della Linea Gustav è percorribile anche per minturno magari idealizzare un prodotto del genere utilizzarlo in percorsi che partano da qui e finiscano lì o viceversa e poi questo gemellaggio allora io ringrazio il delegato alla memoria Mario come indico perché ha avuto l'idea ha stabilito i contatti è andato a trovare il sindaco di Ortona il presidente del consiglio comunale Tomao insieme a un gruppo folcloristico ha partecipato alla festa patronale del comune di Ortona io ero impegnato per questioni familiari indorogabili e il gemellaggio con Ortona Ortona e Minturno erano i capisaldi della Linea Gustav sull'Adriatico e sul terreno e questo gemellaggio vuole rafforzare il percorso valoriale che ho spiegato prima di tramandare ai ragazzi l'importanza della cultura della pace dell'Europa della fratellanza certo può avere anche un risvolto turistico quanti io ero incontrati tramite Mirko una decina di americani inglesi e polacchi che venivano a Minturno in silenzio al cimitero inglese a trovare i propri cari ovviamente è una cosa su cui bisogna lavorare tanto però è un primo passo che vuole essere non solo rafforzare il percorso valoriale che ho detto prima ma anche provare perché no a creare un piccolo brand e settore turistico sul discorso della linea Gustavo però siamo agli albori insomma mi sembra parlarne e prefigurarlo già mi sembra un po' troppo ottimistico e ricordiamoci che da Ortono a Minturno sono stati citati dal presidente della Repubblica Mattarella nel discorso di fine anno insomma quindi una cosa molto molto importante ci eravamo dati mezz'ora poi un'ora abbiamo fatto un'ora e 26 ma se volete io vengo tutte le settimane assolutamente perché parli perché fai 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 e poi ti piace anche raccontare è bello anche raccontare tutte le cose che si fanno le difficoltà che si hanno certo non tutte le puoi dire coran popolo in televisione ai 420 insomma abbiamo già abbastanza nemici allora io faccio fare a Stefanelli Paggella della sua amministrazione in questo secondo anno cioè come ha lavorato la giunta Stefanelli non voglio sapere nello specifico assessore per assessore ma per il lavoro fatto volete minare la stabilità il grande valore della stabilità non ci proviamo non ci proviamo no più o più che altro magari spendo qualche parola il voto no perché il voto poi tra l'altro fa una classifica tu hai preso un mezzo più io sotto tu sopra diciamo più o meno è globale qualche parola dai come è stato questo lavoro è stato estenuante sicuramente guarda fai vedere le foto mi dici i nomi vado io no no come vuoi ok allora abbraccio parto dal vice sindaco il mio vice sindaco che non a caso è vice sindaco non solo per la stazza imponente non solo per il rapporto di amicizie di simbiosi emotiva ed intellettuale ma perché Daniele Sparagna era l'unico quando ci siamo insediati della mia giunta che avesse una visione globale di come funziona un ente locale dalla predisposizione di un bilancio alla redazione di un piano esecutivo di gestione alla differenza fra una del libro una determina un impegno di spesa una variazione ai meccanismi di interlocuzione delle piattaforme informatiche Daniele credo che sia più importante di me all'interno del comune a livello operativo ed è un punto di riferimento per tutti quanti è da persona intelligentissima quale ha acquisito una conoscenza del bilancio spaventosa tant'è vero che a volte scherziamo che dovrebbe cambiare lavoro da ingegnere potrebbe andare a fare ragioniere in un ente locale e questo però è servito anche a dare fiducia a tutto l'ufficio bilancio e tributi l'ho sgravato ha fatto un grande lavoro perché ha portato a termine la gara sui rifiuti in un momento difficile quelle poi sono sempre delle fasi molto calde e mi intorno lo sa bene l'ho sgravato della gestione poi da partenza dal colto differenziata perché a un certo punto ha iniziato a avere non solo problemi di salute ma un sovraccarico professionale ed emotivo è sempre un ingegnere ha sempre un suo studio professionale quando finiremo questa esperienza dovrà tornare a lavorare è opportuno che trovi qualcosa cioè trovi uno studio ancora in piedi e non chiuso e quindi lo abbiamo sollevato da tutta una serie di attività che ho dato a Piernicandro Dacunto il quale era un po' a digiuno di esperienza di gestione di un ente locale pur essendo un sindacalista un dipendente dell'amministrativo di una scuola quindi conosce un po' sa che cos'è un codice dei contratti sa che cos'è una gara una procedura di gara sa che cos'è un avviso sa che cos'è una contrattazione collettiva ha avuto subito un buonissimo impatto nella gestione del personale abbiamo siglato il contratto collettivo nei tempi che ci eravamo dati abbiamo risolto tutta una serie di problemi collaterali al salario accessorio e quando gli ho dato l'incarico di gestire la partenza della corte differenziata glielo ho dato perché mi sembra un assessore che avesse più sensibilità politica e tempo e disponibilità per seguire passo dopo passo l'avvio alle esigenze dei cittadini e devo dire che lo sta facendo in maniera formidabile era un po' titubante pensava che gli volessi tirare qualche scherzo dandogli l'ambiente oggi credo che invece sia entusiasmato basta e credo anche che sia ben voluto dai cittadini per come si è saputo porgere in queste settimane sta un ottimo timoniere per questa differenza sì Mimmanuzzo continua ad avere un po' di problemi con le questioni amministrative non è che le mastica molto ha però più sensibilità di noi nei rapporti con il mondo scolastico con le associazioni e credo che anche lei abbia avuto un inizio un po' in sordina però devo dire con molta sincerità che nelle ultime settimane negli ultimi mesi la vedo molto più in sintonia e molto più capace di lavorare in squadra e credo che questo gli faccia bene anche al suo amore e alla sua predisposizione al lavoro Bembo ha due deleghe enormi lavori pubblici e urbanistica con funzionari in particolare quello dell'urbanistica gli ho cambiato ultimamente ha avuto più difficoltà degli altri a carburare ancora qualche difficoltà ad incidere in maniera significativa però anche lui è in recupero dal punto di vista sai non hai mai fatto esperienze hai altre attività al di fuori del comune il tempo è poco magari non hai un carattere arrembante quindi puoi metterci se hai un diesel e impieghi più tempo Elisa l'ultima buonissima ho dimenticato qualcuno? no no Elisa è un caterpillar è un caterpillar operativo la più giovane è un caterpillar operativo sta in comune è l'unica che sta in comune più di me forse pure più di chiunque altro e devo dire che si è calata nella parte in una maniera straordinaria è diventato un punto di riferimento per gli uffici per i dipendenti al di là delle competenze che gli ho assegnato e quindi sono estremamente contento veramente estremamente contento conferma la squadra quindi sì tra l'altro io ho detto che al giro di Boa che avverrà a Natale faremo delle riflessioni la squadra ripeto una parte della squadra è partita subito a palla in sintonia per una questione caratteriale per una questione di esperienza per una questione di conoscenza per una questione di background culturale un'altra parte piano piano ha trovato il proprio ruolo qualcuno ancora lo sta cercando in maniera da impattare come vorrebbe sulla gestione amministrativa a dicembre faremo delle valutazioni con serenità primo perché fare l'amministratore locale ti toglie energie tempo a volte pure felicità e umore parliamoci chiaro ognuno di noi ha una famiglia un lavoro degli hobby e diventa difficile sacrificare tutto che stare dietro al comune di Minturno e agli interessi della collettività quindi potrebbe anche essere qualcuno stanco o che qualcuno non riesce più a dare il suo e poi dobbiamo anche pensare ad allargare la squadra per dare la possibilità a tutti di esprimere e di dare i propri contributi in maniera significativa però ne parleremo con serenità insomma siamo sempre stati in squadra con un timoniere che sono io credo di averlo fatto anche di aver creato uno spirito di gruppo di avere la capacità di trascinarmi dietro i consiglieri gli assessori noi siamo contenti io sono contento questo non vuol dire che uno non ha consapevolezza dei propri limiti e delle tante 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 cose da fare però dobbiamo essere anche consapevoli da dove siamo partiti siamo partiti in una situazione non certo rose e fiori oggi qualche fiorellino in giro c'è qualche piccola luce l'abbiamo accesa stiamo in chiusura non c'è nessuno che ha detto che i lampioni sono spenti dobbiamo subito passare al commento che è stato fatto da uno dei nostri amici a casa che ci chiede particolare fare attenzione per quanto riguarda le problematiche nella zona della stazione di Minturno dove staziona un cantiere con inquinamento acustico e ambientale notturno se i lavori straordinari per la messa in sicurezza o l'ammodernamento della rete ferroviaria non si fanno di notte si blocca la circolazione della Roma-Napoli con migliaia e migliaia di pendorari studenti gente lavoratori se si fanno di notte ovviamente si fa rumore scriverò una lettera alle ferrovie dello Stato e mi farò sentire per chiedere a Tremitalia alle ferrovie per chiedere di effettuare questi lavori cercando di diminuire l'impatto acustico e ambientale sulle case che si trovano lungo la linea però i lavori o si fanno di notte sulla rete ferroviaria o non si possono fare e se non si fanno poi l'infrastruttura si ammalora e diventa anche pericolosa con tutto quello che conosciamo c'è altro dei social? ma tantissimi complimenti per il sindaco sono tutti i fans che abbiamo la clac la clac l'abbiamo virtuale assolutamente io devo ringraziare il sindaco Stefanelli perché non è facile reggere un'ora e mezza di domande io mi sono divertito abbiamo fatto un esame praticamente abbiamo fatto il famoso esame di giugno io mi sono divertito tra l'altro parlare delle cose che uno riesce a realizzare è sempre ti ripaga di tanti sacrifici di tante amarezze non è sempre bello amministrare essere amministratore e decidere le cose però il potere non è una parola solo negativa il potere è anche una parola positiva significa capacità cioè se vuoi puoi e se puoi le cose le trasformi insomma è anche è una cosa bella il potere non solo non va declinato solo in senso negativo quando volete invitarmi a me fa sempre piacere invitate anche i miei assessori sono anche loro hanno tante cose da raccontare magari con un tono narrativo diverso con un angolo di riflessione diverso da quello che ho fatto io assolutamente non ci non ci tireremo in giro io ringrazio ma non ve la conto per essere stata con noi e ci ha portato il respiro dei social devo farti i complimenti perché sì andate sempre avanti non solo nella rete nelle tecnologie nella professionalità ma anche nei collaboratori e questo non può far altro che farci piacere insomma allora io ringrazio il nostro regista Biagio Capuano che ci ha seguito dalla caldissima regia di Telegolfo grazie al sindaco Stefanelli ci vediamo per strada praticamente sindaco sì io volevo ringraziarvi ringraziamo Emanuela ringrazio De Giuseppe ringrazio Biagio ti assicuro che anche sotto i riflettori non è che fa molto fresco ringrazio Telegolfo saluto i telespettatori per chi vuole il 21 faremo una serata in cui sarò e lo dico in anteprima intervistato da tre giornalisti di un certo livello ci sarà Andrea Licandro che è un nostro concittadino che è un giornalista parlamentare da decenni ci sarà Mario Agliello che è un notista del messaggero e ci sarà Alessandro Panigutti che è il direttore di Latina Oggi insomma un parterre di livello ci faremo una bella chiacchierata grazie e buona serata uno spot vi aspetto domenica sera alle 21 con Michele Placido al Teatro Romano di Minturne grazie per solcare Minturne non dimentichiamo per solcare Minturne allora io ringrazio tutti voi che ci avete seguito in questa lunga maratona abbiamo fatto anche noi la nostra maratona appuntamento alla prossima puntata dell'intervista grazie a tutti grazie a tutti